Salve amiche e amici, grazie per seguirmi. Al più presto caricherò nuovi video nei miei canali Sant'Enchan di Youtube, Dailymotion e Vimeo. Ho provato ad editare e caricare nei miei canali Sant'Enchan, Youtube, Vimeo e Dailymotion dei video fatti con dei piccoli cellulari, ma per il momento ho avuto tante difficoltà. A presto.